Il Lodigiano, la nostra casa, la nostra gente, la nostra comunità. Terra di eccellenze nel mondo delle imprese, dell'arrigianato, del commercio, delle partite IVA, dell'agricoltura. Abbiamo sofferto la crisi economica, abbiamo stretto i denti e adesso vogliamo ripartire con forza e vigore. Regione Lombardia ha fatto tanto in questi anni e tanto possiamo ancora fare. Più autonomia, più sanità, più trasporti, più sicurezza, più aiuti alle famiglie, più lavoro. E un secco no all'immigrazione clandestina e alla burocrazia. Per un futuro migliore, per noi, per i nostri figli e per i nostri nipoti, vogliamo una Lombardia forte come la Germania, prospera come la Svizzera e un Lodigiano che sia davvero protagonista. Con coraggio e passione, insieme, ce la faremo. Il 4 marzo 2018, scheda verde, vota Lega e scrivi Foroni.